Come volevo salutare a tutti quanti gli italiani, io ho fatto l'Italia a piedi il 5 di giugno partendo dalla Svizzera e arrivando al mio paese a Francofonte in provincia di Siracusa il 24 di agosto. Grazie a tutti. Ho fatto la media di 30 km al giorno per 1900 km. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.